Senti, mi spieghi 5 motivi per cui non dovrei tirarmi della Juventus? 5 motivi? 5 sono tanti ma in realtà 3 come i gol di Pepito Rossi 3 come le pere che gli abbiamo messo in culo quel giorno Sì Era aspetto a 10 ottobre 2013 mi sa che era quel giorno Quando gli abbiamo messo 3 cazzi in culo Ma tu hai visto mai un gol che ha fatto Zalajeta in Serie B contro il Bologna? No Fra, un capolavoro Hai contro la legge una roba che non capisci Ma infatti poi hanno pagato, anzi no avevano già pagato Poi avevano già pagato ma non bastava fra Ma Aspetta aspetta ora facciamo bene tutto eh Allora capiamoci Vedi? Riva Stop Guarda poi eh Guarda lì un attimo Doveva capire meglio ma mi sa che Non hai capito mi sa eh No c'è un attimo in difficoltà C'ha avuto il guardarine qui Vedi che un attimo Eccolo qua Guarda la cosa più bella adesso Guarda la cosa più bella Ah ma non è gol Non è gol Non è neanche gol Piccolo stoppino di mano Let's go Guarda qua Bam una bella scena Traversa fuori Che capolavoro queste cose qua Che capolavoro Mette anche il braccio Proprio Sanno che possono fare il cazzo che vogliono Le mani tra i capelli Era una cosa Poi alla fine Non è troppo grave un gol Non è successo niente alla fine del giorno Sono Sono veramente sterrefacto Non l'avevi mai visto questa cosa fra No Non me la ricordo Perché io non seguo la serie B No boh ma è roba vecchissima Semplicemente è una cosa talmente Assurda che Penso che tutti dovrebbero vedere Almeno una volta Per farsi un'idea Grazie che ce l'hai fatta vedere Sì sì Spero che qualcuno abbia Apprezzato Sì Cioè no Che abbia come dire Appreso